eccomi qua, signori e signori, giovani e giovanotti sogna di trovare bello, sogna umana che ecco panello quest'oggi in questa pubblica piazza vi mostrerò un esperimento eccezionale a una pera fanno fara fuori, fanno fanno fara fuori, non fanno fare niente questo è il titolo per questo esperimento useremo soltanto tutto il vino bicchiere in una bottiglia questo esperimento è eccezionale questo esperimento è eccezionale Perché se pregono il bicchiera sa copsecondo la box, la beculano a chiun bicchiera, ma hiệni la box, la box, la box... E se pregono il bicchiera sa cop Players... sechs molle a chiun bicchiera, ma hiệni la box... la box pingna... Grazie, troppo gentile, troppo gentile... Ve lo faccio si rivede. Se pregono... Sìglolo bicholo... Se pregono il bicchiera sa cop ventalauchar, ma hiệni la boxngue, ma hiệni la box... Sìglolo bicholo. Se pregono il bicchiera sa cop materials, ma hiệni la box di potenza, ma hiệni la box. Sìglino M hoof tutto berserzo, e lo so fare anche con uno perchè se copro il bicchiere lo posto un bicchiere e non c'è una bottiglia e se copro la bottiglia lo posto la bottiglia e non c'è una bottiglia e se copro il bicchiere lo posto la bottiglia e non c'è una bottiglia e se copro il bicchiere lo posto la bottiglia e non c'è una bottiglia e se copro il bicchiere lo posto la bocchiglia e non c'è una bottiglia e se copro il bicchiere lo posto la bottiglia e non c'è una bottiglia e se copro il bicchiere lo posto la bottiglia e non c'è una bottiglia Da, da, e da, avemo due bottiglie, piglialo, piglialo, signore, signore, io ho finito e devo andare, però a sto punto, un brindisi, lassatevelo fare, in mezzo a cotanta folla che corre, e guarda solo ciò che appare, un brindisi faccio a te, pubblico, che mi sei rimasto ad ascoltare.